Terra Mara, anticipazioni da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno dove vedremo un agguato ai danni di Fekeli e Cetin, Unkar tentare di far rinsavire Demir e molti altri colpi di scena. La puntata si apre con Zuleya che viene chiamata a colloquio e trova ad aspettarla i suoi bambini con Unkar, Sanye e Gulten e impazzisce dalla gioia anche se li vede attraverso una grata. Poi chiede ad Unkar perché si incontrino lì e lei le racconta che Giulide è stata sospesa e il direttore non ha concesso che si incontrassero nel suo ufficio. Zuleya cerca di toccarli nonostante la grata quando entra Demir con due uomini e chiede alla madre cosa le aveva detto. Lei gli risponde di lasciare che Zuleya vede i suoi figli e lei gli chiede solo cinque minuti ma lui ordina a Gulten e Sanye di portarli via altrimenti le licenzierà. Sanye gli dice di avere pietà allora lui ordina ai due uomini di prendere i bambini e li fa portare via mentre Zuleya piange disperata. Fekeli è con i suoi cavalli quando viene raggiunto da Ilmas che gli riferisce che Zuleya non ha voluto incontrarlo e non lo vuole più nella sua vita. Poi gli dice che accetterà il suo destino e che andrà a vivere a Istanbul con sua moglie e suo figlio. Alla tenuta Demir sta preparando dei borsoni con le cose dei due bambini e dice a Dunkar che sta protestando che li porterà via da lì. Lei gli dice che non glielo permetterà. Lui inferocito le risponde che l'aveva avvertita che se portava i bambini da quella donna non li avrebbe più rivisti e lei invece glieli ha portati disubbedendogli. Ora pagherà perché li porterà via e le mancheranno. Lei gli urla che quella donna è la madre dei suoi figli ma lui le ribatte che la loro madre è morta. Allora Dunkar gli chiede dove li porterà e Chisipre si prenderà cura di loro e lo prega di non farlo. Demir però è irremovibile fa prendere i borsoni e Adnan dai suoi uomini poi lui prende Leila e se ne va inseguito dalla madre che lo prega di non farlo ma lui le risponde che l'aveva avvertita e se ne va con bambini tra la disperazione della madre e di Ammin e il dolore di Sanye e Gulten. Nel frattempo è arrivata Charmin che ha assistito a tutta la scena poi va da Dunkar che le dice che Demir è impazzito ed è preoccupata per come farà a prendersi cura di loro. Charmin le dice che era andata a trovare Zuleya che le aveva chiesto di portarle delle foto dei bimbi. Dunkar subito gliele dà poi le chiede di non dire a Zuleya che Demir ha portato via i figli per non addolorarla ancora di più. Charmin la assicura che non glielo dirà. Charmin va subito a portare le foto a Zuleya che le bacia poi le chiede se Demir era arrabbiato con la madre per averle portato i bambini e lei risponde di no. Poi le chiede se ha visto i bambini e lei risponde che stavano dormendo. Zuleya si insospettisce e le chiede se le sta nascondendo qualcosa. Allora Charmin le dice che quando è arrivata la villa Demir stava portando via i bambini e nessuno sa dove e che un car ha cercato in vano di fermarlo e che la colpa è di Mushgan che ha rovinato tutto anche se poi voleva morire ma si è salvata. Zuleya impotente piange sconsolata. Demir con i bambini si reca a casa di una donna che lo accoglie e prende in braccio Leila mentre Zuleya nel suo letto piange stringendo in mano la foto dei figli. Ilmas stringendo tra le braccia Care e Maliri pensa alle parole che gli ha scritto Zuleya. Un car intanto piange stringendo i vestitini dei bimbi. Ilmas, Mushgan e Bege partono per Istanbul e salutano Fekeli. Durante il viaggio Bege è molto soddisfatta mentre Ilmas alla guida della macchina pensa a Zuleya e alla loro storia. A questo punto dopo la partenza di Ilmas viene mostrata una scena che vede Zuleya che viene portata in ospedale in seguito ad un malore. Poi si vede Demir che dà un ordine ad un uomo. Durante la notte in ospedale una donna si introduce nella camera di Zuleya, si appropria di un farmaco che inserisce in una siringa, mette un camice e sta per inserire l'ago della siringa nel braccio di Zuleya. A questo punto la trama si interrompe e torna indietro di qualche giorno precedente al malore di Zuleya. Vediamo che Ilmas è ancora in viaggio per Istanbul. Si vedono degli uomini che spargono della benzina per terra. Zuleya è ancora in carcere e chiede di poter andare dal direttore al quale piangendo racconta che Demir ha portato via i bambini da casa e non si sa dove siano e lo prega di poter chiamare Unkar per chiederle informazioni. Poco dopo Zuleya telefona ad Unkar e le chiede dove Demir abbia portato i bambini. Unkar, sorpresa che lei lo sappia, le risponde che stanno bene e di non preoccuparsi. Zuleya capisce che sta mentendo, allora Unkar le promette che troverà i bambini e di stare tranquilla e che Demir li ama. In quel momento arriva Demir che prende il telefono e le dice che non riavrà mai più i suoi figli e chiude la comunicazione mentre lei piange e lo prega. Demir, arrabbiato, chiede alla madre perché non fa quello che lui le dice. Unkar gli risponde che i bambini hanno bisogno della madre, Demir però le ribatte che la madre dei suoi figli è morta. Allora lei gli chiede di riportare i bambini a casa ma lui non lo vuole, allora la madre gli dice che sa che lui non è così crudele. Demir le risponde che se fosse crudele l'avrebbe uccisa. Unkar cerca di fargli capire che sta separando i bambini dalla madre e dalla nonna ma Demir la interrompe dicendole che è colpa sua altrimenti i bambini sarebbero cresciuti con lei. Unkar allora gli chiede come fa a dormire in quella stanza senza i bimbi. Demir risponde che i bambini sono accuditi meglio di quello che fa lei. Fekeli è in macchina con Cetin e gli dice che spera che la nuova vita di Ilmas e Mushgan a Istanbul possa riavvicinarli e anche se lui sentirà la loro mancanza spera che siano felici. All'improvviso la macchina non risponde ai comandi, Cetin non riesce a governarla e va fuori strada. Subito escono fuori ma degli uomini appostati lì vicino iniziano a sparargli contro. Fekeli e Cetin rispondono al fuoco e riescono a metterli in fuga. Fekeli dice a Cetin che sono stati gli uomini venuti da Ankara che ce l'hanno con lui perché ha vietato a tutti di vendergli la terra e sa anche chi li ha informati. Poi raccomanda Cetin che Ilmas non deve saperne niente altrimenti tornerebbe subito indietro da lui. Gaffur trova Uzum nascosta dietro una tenda che gli dice che ha paura di Demir perché ha urlato alla mamma e ha paura che urli anche a lei. Gaffur la rassicura che non lo permetterà. Poi le spiega che Demir lavora duramente ed è molto stanco perciò ogni tanto litiga con la madre ma non si arrabbierà mai con lei. Gaffur poi la accompagna da Sanye che sta dando un panino ad un bambino. Uzum chiede lo stesso panino e il bambino le chiede se vuole giocare al nascondino. Sanye dà il panino ad Uzum e le raccomanda di non allontanarsi mentre gioca. Mentre Uzum sta giocando al nascondino entra nella macchina rossa di Demir e si nasconde tra i sedili posteriori. Quando Demir sta per andare via con la sua macchina nera trova un carro seduta dentro che gli chiede di portarla dai bambini. Demir si rifiuta e sale sulla macchina rossa dove è nascosta Uzum. Fekeli è insieme agli imprenditori di Chukurova e li informa che gli autori del suo agguato sono gli uomini venuti da Ankara che si vogliono vendicare di lui che ha impedito la vendita delle loro terre. Quindi dice che tutti insieme devono proteggere il loro paese e le loro terre. Nel frattempo uno degli uomini che hanno teso l'agguato a Fekeli sta facendo rapporto agli uomini di Ankara riferendo che uno di loro è stato ferito ma viene picchiato per essere stato sconfitto da un uomo anziano e del quale ora devono occuparsene loro. Intanto Ilmas, Musgan e Bege si sono fermati per una sosta e Musgan dice alla zia che Ilmas da quando ha lasciato Zuleya è molto nervoso. Lei la rassicura che una volta nella loro casa di Istanbul andrà tutto bene e che Zuleya è in prigione mentre lei è insieme ad Ilmas per costruirsi una nuova vita. Poi Bege le dice che è felice di andarsene da Shukurova, Musgan invece le dice che è il luogo dove si è innamorata di Ilmas. Nel frattempo Cetin è preoccupato per ciò che è successo e riesce a raggiungere Ilmas e a riferirgli tutto. Demir, sempre ignaro della presenza di Uzum, si ferma davanti ad una casa e la bambina lo vede entrarci e prendere in braccio Adnan. Ilmas sentendo che il padre è in pericolo dice che torneranno a Shukurova, Musgan esita e Bege gli dice di andare lui mentre lei e Musgan e il bambino proseguiranno per Istanbul. Ilmas irritato le risponde che non lascerà suo figlio, Musgan interviene dicendo che torneranno tutti indietro. Bege, seppur contrariata, deve accettare la loro decisione. Fekeli, poco dopo essere tornato a casa viene raggiunto da Ilmas. Fekeli gli chiede perché sia tornato indietro mentre lui sta già esaminando la macchina. Fekeli accusa Cetin di averlo avvisato. Ilmas dice che è felice che glielo abbia detto ma Fekeli sostiene che non è niente e che lo gestirà da solo. Entrati in casa Fekeli dice che possono mangiare e poi ripartire. Ilmas però gli risponde che resteranno lì e gli dice che devono scoprire cosa c'è dietro l'agguato. Mentre Demir sta tornando a casa sente un rumore e si accorge Zuzum che gli dice che deve fare la pipì allora si ferma e aspetta che lei finisca constatando che l'ha trattenuta per ore. Così terminano queste anticipazioni fino a mercoledì 14 giugno. Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i nostri prossimi video. Io sono Stefania e come sempre vi aspetto nei commenti per parlare della puntata.